La parabola lontana a piedi E si sta scattando Ci porti la steta E si precede quando Si trova anche il feeling è diverso A sentire il fatto di vedere La funzione Di Larsen che oltre ad essere Piattaformista però fa anche I trampolini E' bene specializzarsi Solo su una disciplina o è bene Fare un po' tutto Perché Anche una tania cagnotto Faceva poi tutto però poi Diciamo arrivata ad una specializzazione Ricordiamo ha vinto anche medagli europei Dalla piattaforma Anche con la Batchi Poi si è concettato però solo sul Allora là io penso che le capacità Del tecnico siano Forse la cosa più difficile Perché dire a un ragazzo O una ragazza Un atleta Non so in atletica Anche in che età Già si specializzano Però diciamo che di base Bisogna saper fare tutto Poi dopo sei E allora Curti Pizzini Entrambi Canottieri Milano Entrambi Lombarde E l'altra Bergamo Tuffi Molto bene Questo tuffo qui Per esempio Sappiamo che Elisa Ha una forza incredibile Quindi sicuramente Lei dovrà dosare Le sue forze Però Saper dosare anche la forza Non è facile Perché poi quando c'è un tuffo Complicato da fare Bisogna dare il massimo E dare il massimo Dosando la forza Molto bene È un tuffo comunque 85-80 È un buon parziale Cosa hanno sbagliato Le due ragazze Beh in questo caso Erano tutti e due Molto abbondanti Fino a qualche anno fa Il fatto che tutti e due Gli atleti Sbagliassero allo stesso modo Non veniva giudicato In maniera negativa Dal sincronizzato Poi si è capito Che non poteva essere Giudicato positivamente Quindi una nuova regola Ha imposto Che comunque sia il tuffo Dovesse finire Verticalmente Il fatto di vederlo Direttamente È molto importante Per l'atleta Ma anche per l'allenatore Per capire subito A caldo Sì perché molto spesso Le parole Non riescono a dare Bene Della correzione Dell'allenatore Quindi ci sia Un doppio riscontro In questo caso anche loro Un doppio e mezzo nero Raggruppato Eseguito sicuramente meglio Da parte della bocchia 48 e 72 Infatti Raccone il telefonino E quindi Torniamo con Curti Pizzini Che affrontano Anche loro Un 305C Il doppio e mezzo Rovesciato Raggruppato Mentre poi Vertocchi Pellacani 107B Ovvero Triple e mezzo Avanti Carpiato Bravi Bravi Queste due ragazze Perché Hanno eseguito Un buon tuffo Sia singolarmente Che nel sincro Un po' sbagliato Alla rincorsa 57 e 96 punti Per Curti Pizzini Che restano Momentaneamente Comporta comunque Un errore Che poi lo paghi In termini di entrata in acqua Poi tutte le tavole Sono diverse Bisogna trovare Anche il feeling Diverso Soprattutto in questa fase In fase di molleggiamento Iniziale Perché insomma Bisogna trovarsi Un po' Capire E bisogna dire C'è una risposta Sempre diversa Da tavola a tavola Questo è sicuramente Anche importante Curti Pizzini Sì bisogna dire Che poi Gli atleti Per quanto fanno il sincro Sono abituati a avere Un atleta Alla sinistra O alla destra Dell'altro Sempre Infatti In le gare internazionali Sono sempre Tre trampolini In modo che si dà Più Possibilità Agli atleti Di trovare La combinazione giusta E è femminile Ecco qui La classifica Al femminile Bertocchi Pellacani 264-24 249-18 Per Curti Pizzini Che si sta scaldando Anch'essa Eh sì Stesso tuffo Anche per Rebecca Curti Il 403B Un e mezzo Ritornato Carpiato Il coefficiente Ovviamente Di difficoltà Non può che essere identico 2.4 E seguirà anche Sara Borghi Con lo stesso Tuffo Finale Un metro Trampolino piccolo Al femminile Molto brava Molto attenta Non è facile Eseguire Lo stesso tuffo Dell'atleta Che ti precede Quando lo ha eseguito In maniera corretta Lei è stata molto più ferma Un pochino più alto Per quanto riguarda La parabola Forse sotto Non ha avuto La stessa attenzione I giudici se ne accorgono E l'entrata Effettivamente fa la differenza Nella votazione È un posto sul podio Alle tre favorite Di giornalcata Ritorniamo con Rebecca Curti 2002 Cannottieri Milano E ovviamente Doppio e mezzo avanti Carpiato Come avete visto Il coefficiente è sempre 2.6 Molto bene La rincorsa Bellissima La sua carpiatura Guardate Non c'è spazio Tra il naso E le gambe Quindi vuol dire Che la posizione È praticamente perfetta Peccato Nella parte finale Non riesce a stendersi Rimane carpiata Il fatto che Tutte le atlete Abbiano lo stesso programma Fa sì che Si abbia più possibilità Che si possano Invertire le play Purtroppo Una parabola lontana L'uno e mezzo in euro Il tuffo Ha più basso coefficiente Ma forse Il più difficile Tecnicamente Da essere eseguito Non ha una rincorsa Quindi il giudice Deve valutare Anche quanto sia alto Un tuffo Più è alto Ovviamente E più la votazione Sarà alta In questo caso Non c'è rincorsa Il trampolino Spinge l'atleta Comunque verso fuori E quindi Non è proprio semplice Vedremo come lo farà Rebecca Curti Lei forse Ha eseguito La migliore partenza Vedete Nel momento in cui spinge Cerca di rimanere ferma Con lo sguardo E far solamente salire Le gambe In questo caso Quindi la carpatura È molto stretta E trova subito Il punto di riferimento Che può essere O la punta del trampolino O il tabellone davanti Dove poggiare le gambe E semplicemente Stendersi per l'entrata in acqua Da magari un po' meno Per quanto riguarda La fase aerea Rebecca Curti Rebecca Curti Rebecca Curti Il trampolino 3 metri Eccola qua in grafica Pellacani Pizzini e Bertocchi 2.59.15 2.47.60 2.41.75 Borrello è Quarta 2.20.75 Sara Borghi Borzano nuoto 2.70 Bıkati Bıkati Bukati 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 Grazie a tutti.